Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, come ogni venerdì, appuntamento consueto con la squadra Tozzi in uscita. Si tratta della Ligano, ovvero l'ultimo campionato principale che vedremo su FIFA 20. Uno dei campionati che, insomma, portava con sé maggiore hype e aspettative, in quanto all'interno di sto team ci sono tanti big boys molto validi. Quindi sarà, come al solito, un video più lunghetto del solito, dove ci soffermeremo sull'analisi delle statistiche. Ma ricordatevi che poi il giudizio finale è rimesso al test e alla prova di questi giocatori sul campo. Perché, insomma, sapete bene che non è detto che poi quei numeri si tramutino effettivamente in realtà. Per cui, senza perderci troppo in chiacchiere, direi di iniziare e il primo giocatore che ci troviamo di fronte è proprio Neymar Junior. Carta che tutti quanti si aspettavano, in quanto Neymar è il grande escluso dei Tozzi di quest'anno. E sicuramente questo qui è l'uomo che stavamo aspettando. Infatti, 1,75-5,5, insomma, questo poco cambia. Ma il boost che riceve nelle statistiche è di quelli importanti. Accelerazione e velocità, ovviamente, impeccabili. La differenza significativa con le precedenti versioni è il boost in potenza tiro che raggiunge 90. Finalizzazione e 98, ovviamente, è tanta tanta roba. Passaggi corti e lunghi eccezionali. Agilità 99, equilibrio 87 e reattività 95 lo rendono super agile. E lo rendono anche divertentissimo da usare per tutti coloro che, appunto, magari skillano. E quindi possono sfruttarlo anche in questo senso. Ovviamente, controllo palla, dribbling e freddezza sono altri tre parametri, sicuramente. Al top, resistenza 93, tutto quanto, insomma, on point per il buon Neymar che entra di prepotenza nel meta come una delle carte migliori del gioco a questo punto. E sicuramente, insomma, andrà a costare veramente tanto, quindi non sarà, ovviamente, disponibile a tutti quanti. Magari piccarlo sarebbe epico, però, soprattutto nelle squadre di pro player, eccetera, eccetera, troverà posto in pianta stabile, secondo me. Prossima carta che troviamo è Kylian Mbappé. Carta molto simile al Toti, in quanto non riceve il boost in piede debole come è avvenuto per quanto riguarda Mbappé torta. 1,78 m, alto-basso, dunque 5-4. Carta che è molto, molto, molto simile a quella Toti, quindi vi dicevo. Velocità e accelerazione boost atistime, ottima finalizzazione e potenza tiro, buono il passaggio lungo, ottimo il corto, super agile, aggirità 99, equilibrio 90, reattività 96, forza 91, che un pochino però lo appesantisce. Controllo palla, dribbling e freddezza, ovviamente, eccezionali per Mbappé che, in questa versione qui, io preferisco andare a piazzare sull'esterno, ma non disdegno anche da punta, cosa che probabilmente andrò a fare se il buon Beyheader decide di scendere dai 6 milioni, andrò a comprare sia lui che Beyheader e li testerò. Quindi diciamo che il ruolo consigliato è esterno, ma ovviamente anche la punta la fa ultra bene. Magari la differenza di prezzo col Toti, se ci sarà, sarà giusto giustificata dal fatto che il Toti è una carta un po' più rara, però vi ripeto, per il resto siamo lì. Prossimo è proprio Wissam Beyheader, mostro finale, 1,70m alto-alto, un piccolo demonio, 4-5, boost statistico anche per lui importante, accelerazione 99, velocità 93, finalizzazione 99, potenza tiro 95, ottimo il passaggio corto un po' meno e lungo, agilità 99, equilibrio 99, reattività 95, controllo palla 96 e dribbling 98 lo rendono un piccolo mostriciattolo agile che sguscia a destra e sinistra nelle difese avversarie, che si gira bene con la finta di tiro, che si gira bene con un dragback, con un doppio passo, insomma, potete sfruttarlo in mille maniere diverse, ovviamente ruolo consigliato per lui l'attaccante in un attacca a 2 e purtroppo attualmente ho visto che però ha un prezzo un po' fuori mercato, credo che se tutto va bene sia andato a sestare sui 3 milioni, insomma, prezzo più che onesto, insomma, non è che stiamo parlando di Ronaldo il fenomeno, mi sembra un po' eccessivo l'hype che c'è al momento intorno al bon Beyheader, però super promosso, super approvato anche lui nella tier god di questo toz di Ligan. Carta successiva, il buon Awar, anche questo ritorna dopo l'esperienza dell'anno scorso che praticamente era strautilizzato, 1,75 m, alto normale, 4-3, boost importante che riceve in velocità, ottima anche finalizzazione e potenza tiro, passaggi sia al corto che al lungo impeccabili, agilità 95, 96 di equilibrio, reattività 93, lo rendono extra agile anche unitamente al body type, quindi questo anche messo lì a scivolare con l'L2 per cercare di intercettare passaggi e coprire gli spazi, lo fa veramente veramente bene, ruolo che consiglio è magari il CC in un 4-4-2 o il CC in un rombo, peccato, sottolineo peccato, il 3 di piede debole che magari gli può costare qualche errorino in fase di impostazione, in fase di finalizzazione, però tanta roba il buon Awar che anche quest'anno insomma si cerca di affermare con prepotenza all'interno del meta. Carta successiva abbiamo questo Abdelhamid che insomma possiamo tranquillamente andare a bypassare, insomma si commenta da solo, mentre un'altra carta che merita tutta la nostra attenzione è il buon Atal, alto alto, 1,76, 4-5, 99 di accelerazione, 96 di velocità, un piccolo demonio, anche lui super scattante, ottima potenza tiro e finalizzazione, anche per lui un boost veramente notevole, ottimi sia passaggi corti che quelli lunghi, agilità 94, equilibrio 92, reattività 92, controllo palla 93, dribbling 98, rendono anche lui super agile, freddezza 87, un pochino mi sembra un po' boostata lì al limite, giusto per dire cavolo questo c'è 87 di freddezza, buone anche le statistiche difensivi, questo qua praticamente può fare un po' tutti quelli che sono i ruoli dell'attacco, a partire dall'attaccante in un attacco a 2, dall'esterno, lo si può anche provare da C o C e perché no anche da CC in un rombo, o un po' meno da CC anche in un 4-4-2 perché magari può soffrire un po', nonostante abbia comunque di work rate alto alto che non è male, però io lo andrei ad impiegare soprattutto da esterno o da punta in un attacco a 2, come vi dicevo, e anche Atal fa parte di quelli che sono i must buy, se proprio volete, di questo Tots Ligan. Prossimo è il buon Memphis Depay che ha 5 di mostre abilità ma 3 di piede debole, quindi già sapete quello che vi sto andando a dire, ossia che è un grossissimo difetto, lo rende praticamente inutilizzabile ai miei occhi, 1,76 poi, quindi vi faccio vedere anche che agilità 92, equilibrio 90, reattività 90 ma forza 91 lo rendono sicuramente molto pesante, quindi magari può essere giusto utilizzato in fascia, visto che comunque è veloce, il body type per essere scattante ce l'ha, ottima finalizzazione e potenza tiro, buoni anche i passaggi, dunque magari messo lì in fascia, a piottare un po', ci può stare magari anche da super sub, ma non ce lo vedo onestamente titolare all'interno della mia, ma anche e soprattutto delle vostre squadre. Abbiamo Hangel Di Maria, anche qui Di Maria abbiamo saputo apprezzare la sua versione footbird, dei qui ritorno al difetto del treppiede debole, che ancora una volta dunque vi ribadisco, come per Depay lo rende secondo me inutilizzabile, anche perché costerà secondo me abbastanza, è gran peccato perché guardate qui che carta c'ha, velocità praticamente al massimo, potenza tiro 99 e finalizzazione 92, passaggi al massimo, agilità 99, equilibrio 85, reattività 91, quindi super agile. Ovviamente dunque il problema del treppiede debole è molto molto grande, però questo qui in fascia e anche da Ciccino un rumbo, raga ve lo potreste inventà, potrebbe andare a rendere, però tra le due versioni preferisco quella footbird, che secondo me sarà anche più cheap e con cinque piede debole, che è secondo me un boost molto più importante di tutto questo aumento numerico che ricevono tutte le sue altre statistiche. Un altro giocatore che secondo me merita la nostra attenzione è il buon Kenny Lala, non solo perché ha un nome a noi caro, ovvero Kenny, tutti quanti sappiamo l'affetto che nutriamo per Dalglish, 1,78m, alto normale 3-3, velocissimo, ottima anche la potenza tiro, ottimi passaggi, peccato quella tanta di agilità e quell'83 di equilibrio che unitamente a quell'87 di forza secondo me non lo rendono propriamente rapido nei micromovimenti e soprattutto nei cambi di direzione che sappiamo essere importanti per un terzino, soprattutto in quelle che sono magari le diagonali difensive. Molto molto al limite dell'83 di freddezza che insomma mi fa scattare un importante campanello d'allarme, lì a destra insomma ci sono tante alternative migliori rispetto a Stolala che comunque rimane una carta molto valida che qualora magari andaste a piccare potete tranquillamente pensare di andare a inserire in un vostro team. Occhio però perché secondo me, vi ripeto, l'83 di freddezza unitamente a quei parametri di agilità un po' così e così potrebbero insomma andare a incidere in maniera negativa sulle sue prestazioni. Mandandà direi che lo possiamo anche andare a bypassare perché insomma portieri quest'anno ce ne sono talmente tanti e sappiamo bene quali sono quelli in meta. Per arrivare al buon Marchignos, un metro 83 normale alto 3-3, Marchignos praticamente esce ogni anno un boost che riceve in velocità diciamo così e così, ottimi passaggi, ottimi parametri di agilità quindi questo qui sicuramente con l'L2 scivola bene, con il 94 di aggressività si azzecca bene agli avversari e dunque è molto pericoloso per quanto riguarda il discorso di andare a sottrarre con efficacia la palla di attaccanti avversari quindi rimane incollato nonostante magari gli avversari siano molto agili. Statistiche difensive ultra bustate, 99 di freddezza quindi il buon Marchignos che anche qui non è che andrei a inserire magari all'interno dei vostri team però magari qualora piccato, qualora trovato nel TOTS garantito un tentativo lo può anche meritare visto che comunque le statistiche sembrano abbastanza buone e on point. Carta successiva è il buon Osiman che abbiamo saputo conoscere nella versione Future Star che ci ha fatto smadonnare per un anno intero, torna più incattivito che mai con questa versione TOTS su 1,85 m alto alto, 3 mosse abilità, 4 piede debole velocità super pompata, finalizzazione e potenza tiro, tanta tanta roba agilità 98, equilibrio 90, reattività 90, unitamente al 1,85 e al 1,94 di forza secondo me lo rendono abbastanza pesantino ruolo consigliato per sto Osiman secondo me esterno a piottare in fascia perché insomma in zona pericolosa ha 3 di mosse abilità e 4 di piede debole quindi manco a dire col 5 di piede debole basta che io mi giro destra e sinistra cosa comunque non è che fa bene perché vi ripeto secondo me non è che abbia questa grande agilità quindi ruolo consigliato per il bonosiman in fascia esterno destro sinistro c'è 10 OS in maniera tale da cercare di andare a sfruttare la sua rapidità nonostante abbia comunque un grosso difetto anche quello del passaggio lungo però sicuramente il bonosiman potrebbe anche valere la pena di essere utilizzato ma senza andarci a svenare, senza fare follie per lui carta successiva è Verratti normale alto 4-4, 1,65m riceve un boost in velocità nonostante comunque la velocità scatto rimanga un po' così e così buona l'accelerazione statistiche di tiro diciamo abbastanza rivedibili ottimi e impeccabili passaggi agilità 98, equilibrio 99, reattività 91, forza 63 unito al 1,65m lo rendono molto agile freddezza 99, ottime le statistiche di difesa diciamo che è una sorta di canteva della Ligan che magari da CC può anche valere la pena di andare a provare visto che comunque è anche 99 di aggressività ma insomma non è che vi vedo e mi vedo andare a comprare Stoverratti per utilizzarlo titolare a meno che non avete nari in italiano insomma e volete qualcuno che possa darvi degli sbocchi in più a centrocampo in termini di ibridabilità carta successiva è Payet che se ho compreso bene dovrebbe essere una SBC 4-4 alto-basso 1,75m questo qui c'è una bella carta indubbiamente è veloce veloce, ottima potenza tiro e finalizzazione ottimi passaggi, agilità 88, equilibrio 91, reattività 83, forza 94 unitamente al 1,75m secondo me non lo rendono propriamente agilissimo dribbling 93, freddezza 90 questo qui insomma tutto sta nel valutare alla fine su che prezzo si andrà da se stare ma non andrei mai a sbloccare sto Payet considerando tutte le alternative che abbiamo a sinistra preferisco tutta la vita andarmi a comprare magari un Bappé 90 piuttosto che buttare i miei crediti su una versione di Payet tozzo non scambiabile che mi rimane poi lì nei denti e non mi dà la possibilità di andare a variare superato Payet, un'altra carta molto 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 simpatica è sto Payet a parte che c'è una foto che ti ispira proprio allegria poi 1,74m normale alto, 3-3 statistiche di velocità e accelerazione top potenza tiro 99, tira pure delle belle lasche passaggio corto e lungo ottimi super agile, 96 di agilità, 94 di equilibrio e 97 di reattività ottime tutte quante le statistiche di difesa questo dovrebbe essere negli obiettivi dunque raga, carta gratuita da sbloccare ad occhi chiusi perché seppur magari non avete modo di utilizzarla da titolare potete utilizzarla da super sub ma questo qui è veramente molto molto valido ed è gratuito quindi due volte tanta roba gli andate a piazzare magari una ancora, una cosa del genere che gli va a bustare ancora di più forza statistiche difensive e la velocità e questo qui sembra veramente un bel giocatorino Tiago Silva insomma è il classico come ormai vi ho abituato piché della Ligan quindi statistiche di velocità un po' ambigue non è agile quindi risente di quelli che sono i cambi di direzione degli attaccanti agili quindi sapete che sarà un bel problema statistiche difensive top aggressività neanche così eccezionale forza tanta roba insomma Tiago Silva piuttosto che lui andrei a scegliere nel caso in cui mi servisse un difensore brasiliano un difensore del PSG un difensore della Ligan il suo compagno di reparto al PSG Marchignos un altro giocatorino che è abbastanza ambiguo è il buon Slimani attaccante due mosse abilità treppiede debole che insomma si commenta da solo e potremmo anche bypassare in maniera molto rapida perché dubito sfido qualcuno di voi a piazzare Islam Slimani nelle vostre squadre piuttosto arriviamo a Savanier che anche l'anno scorso ha trovato posto nel Toz 4-4 un giocatorino interessante normale normale 1,71m ottima accelerazione un po' meno la velocità ottima potenza tiro e finalizzazione ottimi passaggi 97 agilità 99 equilibrio reattività 89 e controllo palla 92 lo rendono extra agile sia palla tre piedi sia che con l'L2 per quanto riguarda la copertura degli spazi ottime le statistiche difensive questo qui da Ciccino e Rombo secondo me vi rende bene vi può rendere bene anche da Ciccino un 4-4-2 magari affiancato ad un giocatorino un po' più fisico Rajkovic così come Mandandalo possiamo tranquillamente bypassare altro giocatore meritevole di tanti bei complimenti è Storenato Sanchez che 1,76m alto alto 4-4 tanta roba super boost ricevuto in velocità potenza tiro 99 e finalizzazione lo rendono anche Deadly in zona offensiva passaggi on point il corto 98 e il 90 e lungo sono tanta roba 94 di agilità 99 di equilibrio 89 di reattività e 94 di controllo palla unitamente al 99 di aggressività lo rendono sicuramente molto molto valido molto molto agile soprattutto nella copertura di quelli che sono i micromovimenti e i cambi di direzione 99 di aggressività poi vi garantisce il fatto che si azzecchia all'avversario tanto lo lasci fino a quando non ha sottratto palla la sua preda questo qui da Ciccino un romo ma anche da Ciccino un 4-4-2 secondo me rende veramente bene e essendo portoghese ha anche la possibilità di essere linkato che so magari con uno Eusebio o un Cristiano Ronaldo eccetera eccetera quindi raga abbiamo fatto questo rapido escursus su quelli che sono i tozzi di Ligan non mi sono neanche soffermato più di tanto perché alla fine le carte di maggior interesse sapevamo bene quali erano quelle che ci aspettavamo io se tutto va bene guardate qui ho da parte circa 6 milioni e 2 per andare a caccia di Bayheader e Mbappe e Toz da portarvi domani in stream quindi che dire io vi saluto vi do appuntamento in live ogni giorno vi ringrazio per la visione di questo video e un salutone and peace ciao a tutti ciao a tutti